Musica Continua l'attività del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lamezia Terme Oggi tocchiamo un tema molto attuale purtroppo una piaga sociale che sta dilagando soprattutto sui web e noi ci occupiamo sempre di queste tematiche e oggi trattiamo questo argomento del cyberbullismo alla luce della legge 71-2017 che a mio modesto avviso si presta a molte criticità quindi come tutte le leggi la esamineremo da un punto di vista di efficacia, saremo anche critici, analizzeremo quello che è stato lo scopo della legge, la fattività e tra i relatori infatti avremo un magistrato del Tribunale dei Minori, un dirigente scolastico e il commissario capo, primo dirigente della Polizia di Stato, commissario capo qui alla Mezia Terme non per autoreferenzialità ma devo sottolineare l'attività di tutti gli organismi di pari opportunità, in particolare dei comitati pari opportunità che escono dalle aule dei tribunali andando soprattutto impegnandosi nel campo della prevenzione ad ampio raggio, abbiamo una rete che è la rete Calabria dei comitati pari opportunità facciamo capo alla commissione nazionale del Consiglio nazionale forense e trattiamo sempre queste tematiche di grande impatto non solo giuridico ma giuridico sociale noi in particolare abbiamo trattato molte tematiche con i convegni cercando di sensibilizzare il più possibile non solo la categoria degli avvocati ma tutti i nostri convegni sono estesi a tutti, non sono soltanto per gli avvocati, infatti oggi sono stata informata e sono molto contenta della notizia che ho avuto che parteciperanno molti studenti di scuole e questo è il nostro scopo di contribuire più che possiamo alla prevenzione oltre alle tematiche che trattiamo con i convegni e eventi formativi siamo in campo con progetti scolastici sempre nel campo della prevenzione il contrasto a ogni forma di discriminazione e di violenza e abbiamo uno sportello perché c'è uno sportello qui nel tribunale aperto nel marzo dell'anno scorso del 2016 uno sportello di informazione e di orientamento contro la discriminazione e la violenza ci alterniamo noi del comitato pari opportunità di la mezzia terme il primo e il quarto giovedì di ogni mese per offrire soprattutto alle donne e a ogni persona che si trova in situazione di discriminazione o di violenza per offrire il massimo della consulenza, l'indicazione delle tutele, della legislazione e di tutti gli organismi che possono fornire aiuto e assistenza sono anche molto contenta della collaborazione che si è estaurata con magistratura e forze dell'ordine che ogni volta devo dire la verità che sono interpellati per partecipare ai nostri convegni lo fanno senza farsi pregare lo fanno volentieri, fermamente convinti come noi che l'unione fa la forza e che la sinergia è indispensabile in questi casi